Ebbene carissimi amici ben ritrovati come sempre sul mio canale vi vado a proporre un 53 bomba su Milano e Napoli attenzione a giocare questo 53 sulle ruote di Milano-Napoli è una giocata molto bella è un favoloso 53 e giocatelo bene perché lo andremo a vincere alla grande condizione di gioco proprio su questo numero sul quale ho una convergenza incredibile ce l'ho in grandissima conferma quindi attenzione perché lo giocheremo a partire da martedì 10 agosto massimo 13 colpi ma conto che possa uscire già nei primi colpi di gioco ambata secca 53 anche prima e seconda posizione tentiamo anche l'estratto determinato con questo bellissimo estratto 53 Milano e Napoli mi raccomando a giocarlo bene giocheremo soltanto due ambi quindi due numeri che abbineremo a questo 53 sono due ambi da non perdere mi piacciono molto è una giocata veramente in grande conferma in grande convergenza spero che possa regalarci un bel lambo secco e come sempre vi darò questi due ambi modalità vincito avvenuta quindi con pagamento soltanto se uscirà l'ambo a ruota mi raccomando una previsione veramente molto bella molto ristretta tra l'altro sono soltanto due ambi quindi sono giocabilissimi contattatemi come sempre via mail o via whatsapp numero 348 7547 715 per avere i due ambi secchi con il 53 mi raccomando a giocarlo bene per adesso saluto a tutti mister sbancolotto